Il nostro commentatore tecnico è Massimo Tecca Grazie per essere con noi Massimo Grazie a te Luca e buon pomeriggio A tutti i nostri telespettatori Nona partita La pioggia incessante ha lagato il campo di gioco L'incontro sta per iniziare Ecco una buona occasione Questa è un'ottima occasione Questa è una splendida occasione Se solo riuscisse a passare la palla Tiro Triangolo Il portiere esce Se la contengono Struttura spazio Si è in possesso del pallone Palla in mezzo E' in fuorigioco Ma no sono tutti smarcati Ecco Tiro Nel primo tempo Sono rimasti da giocare Solo gli ultimi 5 minuti Riesce a penetrare Palla sul secondo palla Viene pescato in posizione di fuorigioco Palla alta Respinge la palla lontana Fine del primo tempo E ora Durante l'intervallo Sentiamo un commento tecnico di Massimo Tecca Sul primo tempo 0 a 0 Le due squadre sono ancora ferme Sul 0 a 0 Massimo Qual è il tuo giudizio sulla partita? Ecco Preferirei vederli più attivi in campo Bene Massimo Vediamo ora cosa ci riserva Il secondo tempo Ecco il calcio d'inizio Del secondo tempo Lì non c'è proprio nessuno Si è in possesso del pallone E ottengono un calcio d'aria Hanno un'occasione da gol Passaggio in profondità E' una bellissima palla L'allunga di testa L'allunga di testa Non trattiene il pallone Se solo riuscisse a passare la palla Goal, 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 goal Una conclusione magistrale Passano in vantaggio Bene Rivediamo il replay Ha un'ottima visione di gioco Dal fisco d'inizio della ripresa Sono trascorsi 25 minuti A bordo campo Una riserva sta già cominciando a scaldarsi La spinta del portiere Il portiere non trattiene la palla O tendono un calcio d'aria Che peccato Vediamo se il cambio friccuato da raglio è più disperato Hanno un'occasione da gol Palla in aria E' un'occasione da gol In scivolata Rimessa la palla Riesce a passare il 3 alla palla Però era il cross in profondità Il portiere si lascia sfuggire il pallone Sfrutta lo spazio E' gioco pericoloso Il capitano cerca di organizzare la barriera Una cannola La palla di scala Goal Goal E' in rete Una rete incredibile Hanno segnato ancora Vediamo di nuovo l'azione Si gira su se stesso L'arbitro ha fischiato L'incontro è finito Hanno vissuto momenti difficili durante questa gara Ma alla fine sono comunque riusciti ad aggiudicarsi la vittoria Allora Massimo Quali sono le tue impressioni sulla partita? Mi è sembrata una partita entusiasmante Davvero molto molto bella Bene Massimo Grazie per il tuo commento tecnico Purtroppo è arrivato il momento di salutarci Un arrivederci dal vostro Luca De Capitani Ringraziamo Massimo Tecca Che ha curato il commento tecnico E' stato un piacere Luca Ciao Bene amici sportivi A presto Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione